55.600 persone hanno dimostrato che siamo determinati. Abbiamo la forza e la volontà per difendere quello che è nostro, la sanità pubblica. Potevamo avere solo 40.000, ci sentivano quelle. La regione toscana invece ha organizzato una truffa contro questa bomba del referendum. Perché la volontà fa volare è il volto più forte dell'Oripro. E noi l'abbiamo dimostrato, anche con questa manifestazione e con tutte quelle che si hanno sconti su questi giorni sotto gli ospedali. La salute è un diritto, non è profitto. Rossi! 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 Grazie!